Grazie a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare il Presidente per l'invito e Max per la presentazione. L'argomento di quest'oggi non è specifico, verte soprattutto su domande e risposte. Le domande sono tante, le domande sono semplici da farsi, ma le risposte non sempre sono così facili. Anzi, qualche volta richiedono un costo intellettuale per chi dà la risposta e per chi ascolta. Non è facile interpretare l'insegnamento dottrinale del nostro Maestro. Sappiamo tutti che Sai Baba non proponeva una religione nuova, una filosofia nuova, ma si rifaceva ai testi antichi, all'Eupanishad, ai Veda, al Brahma Sutra e alle interpretazioni di Shankara. Per potere dichiararsi devoti di Sai Baba, noi dobbiamo o avremmo dovuto rifarci a questi testi antichi soltanto perché Sai Baba voleva trasformare ciascuno di noi in un ricercatore della verità. Ma ricercatore della verità per Sai Baba voleva dire anche esploratore, un esploratore dello spirito. L'esploratore è colui che si reca in un luogo, raggiunge la meta, raccoglie dei dati e torna indietro per spiegarlo agli altri. I dati che noi possiamo raccogliere provengono ovviamente dall'insegnamento del nostro Maestro. Il Sai Baba si rifaceva quasi completamente alle interpretazioni di Shankara sulla Vaita Vedanta. La Vaita Vedanta deriva da l'interpretazione di un libro scritto da Vyasa, un mitico avatar di Vishnu vissuto 2500 anni fa e aveva scritto un testo che si chiama Brahma Sutra o Vedanta Sutra, 505 aforismi dai quali si è dedotta dal Vaita Vedanta. Per interpretare il Brahma Sutra si sono cimentati 5 avatar e 6 con Sai Baba e decine di discepoli. Voi immaginate quanto impegno avevano avuto per interpretare un trattato del genere e potete anche immaginare la pochezza delle risposte che io potrò darvi. Siccome le risposte possono essere inadeguate, chiamo tutti a collaborare. Tutti voi dovrete cercare di correggere o integrare le risposte che darò. Le risposte sono circa 18-19, qualcuno ha il testo forse che potrà leggere. e abbiamo quanto? Due ore di tempo per... Non in più, andiamo oltre anni. La prima domanda... c'è qualcuno che vuole leggere le domande? Va bene. La prima domanda... Suami ha parlato sempre di immortalità dell'anima e reincarnazione. C'è stato un episodio eclatante durante lo svolgimento della sua professione di medico che riguarda proprio questo argomento? Ce lo può raccontare? Se avessi fatto la domanda sull'immortalità, Sai Baba mi avrebbe detto Ma prima di tutto, leggi quattro veda Studia i 18 Purana Medita sul Brahma Sutra E poi, se non sei convinto Rivolgiti alla manducchia Karika e alla manducchia Upadisha di Shankara e altri testi scritti da questo filosofo E se ancora hai dei dubbi sulla... L'immortalità della nostra anima Fai un atto di fiducia e credi a quello che io ti insegno Ma noi siamo razionali vogliamo delle risposte ragionevoli e l'unico elemento che possiamo trattare per stabilire l'immortalità dell'anima è incontrare le persone che ricordano delle vite precedenti Recentemente noi abbiamo incontrato una bambina che ricordava esattamente tutto quello che aveva fatto la bisnonna vissuta anni prima e che lei non aveva riconosciuto La bambina riconosceva tutti gli oggetti della bisnonna la loro funzione, ricordava i vestitini che portava e persino i nomi delle compagne di scuola Però noi non possiamo basarci su questi ricordi per stabilire che l'anima è immortale Innanzitutto In occidente si è cannato sul concetto di anima Non esiste un'anima individuale Recentemente Sai Baba aveva precisato che esiste solo un'anima universale Non esiste una coscienza individuale, una mente individuale ma soltanto una coscienza universale E cos'è quindi che si trasmette di vita in vita? Gli indiani chiamano quello che noi abbiamo identificato come anima individuale lo chiamano Jiva Il Jiva o la Jiva è un flusso vitale collegato perennemente all'anima universale Nella vita Vaini Sai Baba lo definisce come un'entità che assume il prana, l'energia vitale e quindi è una specie di accumulatore di energia cinetica che passa di vita in vita Noi parliamo di prana in una maniera molto semplicistica Riteniamo che sia l'energia che esce dalle dita di un terapista un'energia che è all'esterno mentre studiando la letteratura vedica possiamo dire che il prana è la sorgente di tutte le energie conosciute quindi la sorgente della forza elettromagnetica di quella gravitazionale, di quella nucleare debole e forte è l'energia, la fonte, la sorgente che stanno ancora cercando gli scienziati Questo Giva è semplicemente una proiezione dell'anima quindi una proiezione è semplicemente una sovrapposizione non è l'anima, non è una fotocoppia dell'anima che si inserisce in un individuo è semplicemente un flusso gli indiani lo chiamano Upadi sarebbe opportuno soffermarsi sul termine Upadi vuol dire un'immagine di una realtà vicina che conserva i suoi attributi tutto quello che è nell'universo è semplicemente il frutto di questa Upadi esiste solo il Brahma l'assoluto l'unica realtà dal quale Brahma si proiettano questi riflessi queste sovrapposizioni che vengono appunto chiamati Upadi il nostro universo è un Upadi cioè una sovrimpressione una proiezione, un riflesso e quindi non reale tutte le entità cosmiche sono effettivamente solo degli Upadi Maya è un Upadi le anime e i Giva sono Upadi e sarebbe opportuno che cercassimo tutti di studiare di analizzare bene la Vaita Vedanta questo sistema filosofico per capire effettivamente come si svolgono i fatti cosmologici parlo della Vaita Vedanta perché effettivamente è l'unico sistema che si identifica con la scienza con la fisica quantistica è l'unica filosofia che viene confermata e supportata dalla fisica quantistica cioè dalla fisica moderna tutti i mistici che hanno avuto un'esperienza trascendentale hanno aderito poi alla Vaita Vedanta in un modo o nell'altro l'esempio più eclatante è quello di Ramana Maharishi il quale ha avuto le sue prime esperienze da 17 anni quando non aveva ancora letto niente della lettura vedica e dopo essersi illuminato ha cercato di capire meglio la cosa leggendo proprio e aderendo alla Vaita Vedanta oggi la Vaita Vedanta ha assunto un'importanza notevole tanto che nel 1983 forse non tutti lo ricordano o lo sapete nel 1983 Sai Baba ha indetto un simposio a Bombay invitando spiritualisti filosofi fisici tutti gli scienziati di diverse discipline per avvalorare la Vaita Vedanta per avvalorare il misticismo e confrontarlo con la scienza più moderna il simposio si proponeva alcuni scopi che vi elenco liberare l'uomo dai dogmi dalla superstizione e dalle false credenze accomunare spiritualisti e scienziati in un viaggio verso la realtà vera rivelare l'unità tra materia e spirito svelare dunque l'unità nella diversità facendo capo ad un'unica coscienza universale riconosciuta in un campo subatomico quello quantistico unificato voi avrete sentito parlare e se qui ci sono dei fisici lo potremmo spiegare meglio di me avete sentito parlare del campo quantistico affollato di onde che possono essere trasformate in particelle nel momento in cui c'è una coscienza che lo osserva bene in questo simposio si è arrivati a stabilire che l'assoluto potrebbe essere identificato in un campo subatomico in un campo quantistico unitario questo campo quantistico unitario è fatto di tanti campi sovrapposti di cui avremo occasione di parlare Sai Baba è forse stato il primo mistico insieme a Nisargadatta forse a paragonare a confrontarsi con la scienza moderna nessuno prima di allora aveva cercato di avvalorare la spiritualità con la scienza Sai Baba lo ha fatto tant'è vero che forse qualcuno di voi ricorderà l'inaugurazione del museo delle scienze in quell'occasione veniva proiettato un filmato dal titolo credo eredità spirituale in cui si identificavano le diverse divinità mitologiche con le particelle subatomiche ad esempio la la Trimurti fatta di Shiva Vishnu e Brahma venivano identificate con le particelle subatomiche fondamentali protone neutrone e elettrone nessuno di allora si era cimentato e aveva cercato di confrontare spiritualità e scienza in quell'occasione il filmato era stato così importante che l'allora presidente mondiale Ingoulashat qualcuno forse lo ricorderà aveva aveva utilizzato il filmato per scrivere un bel libro ben confezionato da conservare in perennemente in una biblioteca il libro si chiamava spiritual heritage e parlava spiegava proprio come la cosmologia e la cosmogonia dell'advaita vedanta si identifica con la con la fisica quantistica andiamo avanti con la seconda dopo 20 anni di frequentazione centro con circoli di studio base base a ripetizione del nome Gaia e l'imprescindibile contatto vis-à-vis con la vata può avere senso aprire per i devoti interessati un confronto metafisico forse anche perché a furia di fare ABC 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 qualche temino sta venendo fuori allegoria che vuol dire che forse riusciamo ad intendere a nuovi livelli insegnamenti di cui all'inizio non comprendevamo la portata ad esempio bene e male non esistono eccetera ciò che molti devoti non frequentano più perché non ci sono gli stimoli che cercano ma è pericoloso andare a cercare in giro da altre fonti quando sicuramente c'è qualcuno che potrebbe istruire su ciò che ha detto Sai Baba Om Sai Baba Di fronte al irrazionalismo delle religioni bisognerebbe proporre una un razionalismo metafisico noi sappiamo che le religioni e a mano a mano che andiamo avanti ce ne rendiamo più conto sono sono fantasiose sia perché non vengono decifrate certe ben decifrate certi concetti sia perché il teologo è esclusivamente religioso e o non ha fatto l'esperienza trascendentale o evita di proposito per convenienza di prendere in considerazione la spiritualità la spiritualità è completamente diversa dalla religiosità c'è un abisso tra l'uno e l'altro la religiosità è soprattutto esteriorità spesso idolatria mentre la spiritualità è interiorità è cercare la propria essenza quindi dovremmo proporre ai giovani o all'esterno questo razionalismo metafisico ma c'è qualche cosa di più che potremmo fare e che noi vecchi non abbiamo saputo fare non abbiamo avuto il coraggio di farlo ed era quello la proposta che era stata avanzata nel 1990 dal presidente mondiale Indulashai in un convegno da parte era quello di suddividere ne avevamo già parlato forse in precedenza era quello di suddividere il centro in tre livelli come fanno tutte le scuole filosofiche si proponeva di di dividere in tre livelli il primo livello quello dei neoiscritti un secondo livello di quelli che avevano capito qualche cosa e un terzo livello costituito da membri che avevano capito tutto o quasi tutto nel 1990 io sono stato uno di quelli malalloguratamente che si è opposto alla suddivisione del centro in tre livelli pensando che gli occidentali avessero lo stesso livello coscienziale e intellettuale ed è stato un errore perché abbiamo visto nel tempo che sarebbe stato molto utile scegliere di suddividere in rapporto a livello coscienziale dei membri nei centri si si procede con tre elementi fondamentali il primo i bagian il seba e i circoli di studio i bagian sappiamo tutti a che cosa servono non portano alla realizzazione ma servono soltanto per spietare la mente ma anche il seba non porta alla realizzazione il seba questo senso di mutuo soccorso di solidarietà non è un'attività spirituale lo diceva recentemente Sai Baba è semplicemente un dovere chi nasce ha il dovere di servire gli altri di soccorrere il bisognoso è proprio un dovere di chi nasce quindi non può essere considerato un esercizio spirituale l'attività che può portare alla realizzazione è il circolo di studio cioè l'istruzione l'argomentazione attraverso l'istruzione si riesce a realizzarsi proprio perché si arriva ad intuire la verità o a discriminare quello che è reale e quello che non lo è i circoli di studio per quanto abbia memoria si fondavano su certi valori si argomentava sull'amore sulla pace sulla non violenza tutti argomenti nobili però senza un supporto metafisico non si riusciva a capire la sorgente e la funzione che potevano avere se noi diciamo che se predichiamo l'amore e la non violenza qualcuno ci può chiedere perché dobbiamo amare tutti perché dobbiamo vivere in pace risponderemmo perché siamo tutti fratelli ma il bambino ci direbbe ma perché siamo tutti fratelli quindi dovremmo poi ritornare alle radici metafisiche alla cosmologia cosmogonia della Advaita Vedanta per spiegare perché effettivamente siamo tutti uno la conoscenza è l'unico elemento che può realizzare non c'è nessuna opera meritoria diceva Shankara anche se voi faceste un milione di opere meritorie non riuscireste a realizzarvi la realizzazione si raggiunge solo e soltanto con la conoscenza Shankara Vyasa e Sai Baba anche di Sargadatta non lasciavano dubbi sul fatto che solo con la conoscenza e con nessun altro esercizio si può raggiungere la realizzazione ricavo queste affermazioni dalla Bhagavad Gita e dal Viveka Kudamani giusto per dimostrare che è solo la conoscenza che può realizzarci la Bhagavad Gita dice la conoscenza supera l'esteriorità gli esercizi spirituali non portano alla conoscenza la conoscenza riduce in genere tutti gli atti compiuti e se anche tu fossi un criminale fra i criminali attraverseresti ogni miseria grazie alla conoscenza questo è un concetto molto importante perché se Hitler avesse raggiunto la conoscenza all'ultimo minuto tutto il suo karma sarebbe stato cancellato immediatamente questo ci lascia un po' confusi ma ma dobbiamo accettare questa questo suggerimento e questa conoscenza la non conoscenza cioè l'ignoranza smarrisce la gente la sola cosa utile quindi è quella di istruire la gente sui principi metafisici o indurla a fare l'esperienza mistica non esiste in questo mondo alcuna purificazione pari alla conoscenza infine chi mediante la conoscenza ha risolto i suoi dubbi non è più incatenato dagli altri questo vuol dire che chi si realizza sia attraverso l'esperienza trascendentale sia attraverso l'istruzione non viene più influenzato dal karma non solo cancella tutto il karma passato ma tutto quello che fa non va ad influire la sua vita i principi metafisici proposti dall'albaida vedanta sono molto semplici lo sapete l'albaida vedanta si fonda sulla credenza che la verità che sottende l'universo sia un principio di unità inerente a tutte le cose e che esso sia conoscibile con l'esperienza mistica ovviamente ciascuno di noi può istruirsi e quindi può realizzarsi non tutti hanno la possibilità o la fortuna di di sperimentare l'aspetto coscienziale supremo l'esperienza mistica è riservata solo a pochi c'è qualcuno che ha fatto l'esperienza mistica senza avere ricevuto un'istruzione tipo Ramana Maharishi e c'è qualcuno che in seguito all'istruzione che ha ricevuto ha fatto l'esperienza mistica e ha avuto proprio grazie all'istruzione la possibilità di interpretarla per spiegarla agli altri non è facile spiegare uno stato di assolutezza a chi a chi non l'ha fatta è un po' come spiegare che cos'è la neve a un a un nomade del del deserto del Carari il primo assioma dunque della baita vedata è che l'universo è un'unità indivisibile non solo ma che tutti gli elementi dell'universo possiedono il tutto cioè nell'elettrone noi abbiamo abbiamo l'intero universo nel piccolo c'è il grande ma la cosa proprio che sorprende è che in una piccola cellula in un piccolo atomo ci sia la memoria di tutto l'universo noi noi dubitiamo che con la argomentazione e con la discussione con l'analisi di quello che ci viene insegnato sia possibile raggiungere la realizzazione però se pensiamo come Aurobindo ha raggiunto la realizzazione ci rendiamo conto che lo ha fatto semplicemente riflettendo sulle cose che aveva letto altri discepoli di Ramakrishna si sono realizzati pur non avendo fatto l'esperienza trascendentale e non dobbiamo sottovalutare la possibilità di istruirci in un certo modo e per questo dico che tra tutte le attività del centro il cerco di studio è quello più importante forse qualche volta lo si trascura o si parla di cose prive di senso e di significato mentre dovremmo proprio approfondire certi testi come quelli scritti da Shankara e soprattutto col Brahma Sutra il Brahma Sutra viene anche indicato come Vedanta Sutra non so se qualcuno si sia cimentato con questo testo che è difficile ripeto se cinque o sei avatar si sono cimentati per interpretarlo vuol dire che non è così semplice però grazie alla loro interpretazione possiamo proprio riflettere su certi su certi concetti e a nostra volta potremmo anche interpretare l'Advaita Vedanta in un modo diverso per esempio Sai Baba ha integrato l'interpretazione di Shankara non sempre Shankara riesce a risolvere tutti i problemi e i concetti tanto più che di fronte alle scoperte scientifiche ovviamente potrebbe essere potrebbe essere soggetto a un'interpretazione diversa il maestro che che dà l'istruzione l'istruzione che porta alla realizzazione però deve essere un maestro illuminato e sottolineo il fatto che debba essere illuminato cioè che abbia fatto l'esperienza trascendentale se non ha fatto l'esperienza trascendentale potrebbe potrebbe darvi delle indicazioni non esatte che vi rovinano la vostra vita e la ricerca che è partita da molte vite sono i ciarlatani i visionari che possono indurre che possono dirottare i ricercatori e quindi bisogna veramente stare attenti Sai Baba ci aveva avvertito non mettete molte toppe al vostro mantello ma scegliete poi sempre un maestro sicuramente illuminato non possiamo facilmente sapere chi è illuminato però possiamo facilmente sapere chi non è illuminato in rapporto alle sue dichiarazioni possiamo decidere se non è illuminato se lui se una persona dice mi sono illuminato nessuno ha la possibilità di contestarlo è proprio un fatto del tutto personale mi riferisco poi a certi santi cattolici di cui forse sono stati fatti dei circoli di studio che erano grandi devoti ma sicuramente non avevano fatto l'esperienza trascendentale e quindi quello che proponevano doveva essere preso con le pinze perché potevano anche dare informazioni del tutto errate parlo dei santi cattolici ma potrei parlare anche dei papi anche dell'ultimo papa di cui c'è una domanda a cui a cui risponderemo andiamo avanti Bar parla di unità come mai tutt'oggi c'è una continua lotta tra organizzazione e non qual'era la sua posizione quale secondo lei il piano che sai poteva avere al riguardo negli ultimi anni ci sono stati degli eventi che hanno fatto una selezione hanno selezionato i devoti e i pseudo devoti la selezione c'è stata da qualche anno e continua ancora oggi ma è così la storia di tutti i condottieri spirituali dei settanta discepoli che aveva Gesù ne ha portato sul Golan per istruirli soltanto sette a parte gli apostoli in rapporto a certi documenti che sono sopravvissuti alla persecuzione della chiesa Gesù che si è salvato dalla croce si è rifugiato poi sul Golan portandosi dietro cinque discepoli e gli apostoli e ha speso degli anni secondo la Pististofia ha impiegato degli anni per istruirli e se ne è andato soltanto dopo averli portati alla realizzazione le lotte interne dell'organizzazione servono per selezionare proprio coloro che avranno il compito di trasferire l'insegnamento di Sei Baba alle future generazioni come se essi stessi fossero degli avatar vi ricordate che Sei Baba diceva quando parlerete di me quelli che vi avvicinano è come se avvicinassero me perché voi siete i miei avatar il piano di Sei Baba era quello di portare più gente possibile realizzarsi sia attraverso l'esperienza mistica sia attraverso l'istruzione prevalentemente attraverso l'istruzione l'esperienza mistica può essere fatta anche da chi non crede in Dio anche da chi non ha non ha letto niente ma proprio perché la spiritualità non ha nulla a che vedere con Dio e con la religione sto dicendo delle cose grosse ma in realtà la spiritualità è qualche cosa di diverso dalla religiosità e dal concetto di Dio ci sono stati elementi che individui che si sono realizzati semplicemente leggendo un libro o come Jacob Boehm che cosa si è realizzato quando il suo occhio è stato colpito da un raggio riflesso da un piatto di stagno ma insisto molto sul fatto che la realizzazione si possa raggiungere con l'istruzione io penso che in questi anni non si sia dato molto peso all'istruzione alla riflessione meditativa parlavo di riflessione meditativa trent'anni fa in un primo libro dal titolo Sai Baba non è un uso dal cielo perché era proprio attraverso la riflessione che noi possiamo raggiungere l'ultimo stadio le prime lotte all'interno dell'organizzazione ne sono sorte perché qualcuno voleva trasformare un'organizzazione che è prettamente spirituale in una religione in una nuova religione e quindi si dava molto peso all'esteriorità io ricordo le lotte che abbiamo sempre fatto per combattere certi elementi di esteriorità che non avevano nessun significato per la nostra cultura e certamente queste lotte si sono fatte perché non abbiamo capito fino in fondo l'insegnamento di Sai Baba Sai Baba parlava di unità ma parlava anche di un rispetto per tutte le credenze e le culture del mondo per cui non faceva alcuna differenza tra il cristiano il musulmano e il buddista riteneva che tutti avessero riteneva giustamente che tutti avessero la stessa essenza e avessero poi il diritto di raggiungere la medesima meta work is worksheet diceva Swami il lavoro è adorazione in che modo tu metti in pratica questo insegnamento se puoi fare esempi pratici di come fare per attuarlo ah qui entriamo nella privacy Sai Baba aveva fatto una dichiarazione scioccante che i ben pensanti non hanno preso in considerazione Sai Baba aveva detto di dedicare al Signore qualunque atto buono o cattivo che fosse come se noi tutti fossimo soltanto degli strumenti che agiscono secondo un piano previsto dal Padre Eterno Sai Baba qualche volta andava andava di brutto e diceva che noi siamo soltanto dei burattini burattini pilotati dai fili che provengono da un piano elevato questo piano elevato deriva dall'anima cosmica vorrei soffermarmi un attimo sul concetto di anima cosmica l'anima cosmica è diversa dall'assoluto l'assoluto il Parabrahman è eterno e non ha attributi è indifferenziato la mano a mano che si scende dico si scende per intenderci il Parabrahman attraverso queste proiezioni queste upadi acquista degli attributi l'anima cosmica è un vero campo quantistico che raccoglie tutti i pensieri e gli atti che vengono fatti dall'universo li raccoglie li elabora e subito dopo li mette nell'universo per creare il futuro immediato si raccoglono dei dati si elaborano in tempo reale e attraverso l'influenza poi degli altri stimoli carnici che arrivano a livello planetario vengono immessi di nuovo nell'universo per creare lo spazio vitale e l'individuo mentalmente distinguiamo degli atti positivi da quelli negativi gli atti positivi sono favorevoli gli atti negativi sono dannosi però tutto questo è un fatto mentale perché questi atti influiscono semplicemente sul karma non sulla nostra spiritualità influiscono sul karma nel senso che creeranno uno spazio vitale buono o cattivo in rapporto a quello che abbiamo fatto abbiamo tutti la capacità di fare di sfare di brigare abbiamo tutti la capacità e la possibilità di volere di desiderare ma dice baba non avete la possibilità di ottenere tu puoi desiderare tutto quello che vuoi ma non puoi desiderare non puoi ottenere quello che desideri a meno che tu non riconosca di essere il burattino che segue un certo piano un certo piano che è programmato in un certo modo e non sappiamo effettivamente ancora come e da chi perché noi pensiamo a un'entità divina ma in realtà abbiamo visto che la divinità è semplicemente un campo quantistico un campo subatomico personalmente entriamo nella privacy come mettevo in pratica questo insegnamento convinto che il nostro corpo sia soltanto lo strumento della coscienza cosmica quando facevo qualcosa avevo sempre in mente il mio sé e lasciavo a lui la responsabilità di tutto non mi preoccupavo che quello che facevo fosse buono o cattivo era semplicemente un fatto che dovevo fare perché era previsto in un piano cosmico in definitiva applicavo l'invito che Baba aveva suggerito tenete le mani nel mondo e la mente sempre rivolta a Dio a Dio al sé interiore e quando sei Baba mi aveva detto tu sei Dio non sai di esserlo scoprilo ma io l'ho preso molto seriamente e cercando di scoprire effettivamente nel tempo la realtà e il valore del nostro io noi ci dimentichiamo che il nostro io è l'unica realtà esistente nell'universo non esiste nessun'altra realtà al di fuori del nostro io è chiaro che l'io può essere vestito in un certo modo o spogliato cioè l'io empirico grossolano che si è lasciato trascinare dall'illusione da Maya e c'è quello glorioso che è il nostro sé che è spogliato dell'illusione e che è la divinità il Brahman noi cerchiamo il Brahman nello spazio in tutti i posti immaginabili e non riconosciamo e non ci convinciamo che è dentro di noi e che il nostro io è la divinità che è il nostro io e Dio quando diciamo queste cose fuori ci prendono dei folli ovviamente come come pretendiamo di essere Dio ma in realtà se riflettiamo è l'unica realtà esistente non ce ne sono altre quindi da quando ho conosciuto Sai Baba una metà del mio cervello assolve assolve gli atti quotidiani e l'altra metà pensa a Dio dico giorno e notte ma nel momento in cui dormiamo faccio una breve parentesi sapete che nel momento in cui entriamo nel sonno noi cancelliamo tutto l'esterno e quindi il nostro il nostro io è come se fosse purificato e quindi in quel momento entriamo nella divinità se noi riuscissimo ad avere un sonno profondo in maniera cosciente noi ci renderemmo conto di essere divini sto dicendo una cosa assurda perché chi dorme perde la conoscenza però se noi arrivassimo a fare una cosa del genere essere coscienti durante il sonno avremmo risolto tutti i nostri problemi e in realtà l'esperienza trascendentale è come un sonno nel momento in cui entri nel fai questa esperienza entri nell'assolutezza e ottieni non ottieni una folgorazione uno pensa si illumina e cos'è Dio apre le braccia apri i cieli c'è una grande luce luce e sei folgorato da qualche cosa in realtà l'esperienza trascendentale ti porta un'informazione ti dice chi è Dio ti dice chi è l'universo ti dice chi sei tu ma è solo un'informazione non c'è tutto una un baldazzino equestre è semplicemente una sensazione una consapevolezza io dico che si tratta di un'informazione solo quello ma è un'informazione che ti risolve immediatamente tutti i problemi c'era un mistico un sufi che diceva sempre a proposito dell'istruzione che può dare il maestro che l'istruzione che riceviamo da un maestro vale quanto duecento anni di studio noi potremmo studiare per duecento anni ma in poche parole il maestro illuminato ti dà la soluzione e penso che molti di noi che sono stati da Sai Baba hanno ricevuto un'indicazione che gli ha aperto completamente le porte del paradiso del regno del cielo grazie a tutti Sai Baba in tempi non sospetti era andato nel Kashmir a Srinigan e aveva visitato la tomba di Gesù se Gesù non fosse morto in Kashmir che cosa aveva spinto Sai Baba a fare questa visita e quando noi abbiamo chiesto a Sai Baba vogliamo andare a trovare a vedere la tomba di Gesù lui non solo ci ha ostacolato ma ci ha facilitato facendoci trovare quello che cercavamo la Chiesa non ha documenti che comprovino che Gesù sia morto sulla sulla croce ne ha documenti che comprovino la sua risurrezione voi sapete che il cristianesimo si basa unicamente sulla risurrezione se San Paolo diceva che se Gesù non fosse risorto dai morti la sua dottrina sarebbe stata falsa e quindi non avrebbe avuto alcun senso la Chiesa non ha documenti e ci sono invece documenti che comprovano il fatto che Gesù sia sopravvissuto alla croce la Pistisofia è un libro un po' complicato da leggere ma che rivela che dopo la la il salvataggio dalla croce si sia rifugiato sul Golan a Gamala e abbia istruito i suoi discepoli Gamala è situato sul Golan era una cittadina chiamata la città dei Nazareni che era stata distrutta dai romani dopo un violento assedio lunghissimo assedio un violento attacco aveva distrutta completamente e novecento persone pur di non cadere nelle mani dei romani si erano gettati dal dal dirupo Gamala corrisponde effettivamente al luogo descritto dai Vangeli il luogo della nascita di Gesù c'è un un testo che contestava delle eresie scritto da Tertulliano il Vescovo di Lione mi pare in cui si è premurato di cancellare il nome della cittadina e il nome del monte in cui si era rifugiato Gesù e in cui si riunivano gli apostoli prima di prendere qualunque decisione effettivamente la cittadina era chiamata Gamala ed era la città dei Nazareni Nazareni era una setta come i farisei saltocei eccetera la chiesa essendo stato completamente distrutto la chiesa è stata costretta nel quattrocento a ricavare una nuova Nazareth a pochi chilometri dal lago di Tiberiade che però è in collina mentre nei Vangeli si parla di un monte monte del Golan situato a otto chilometri dal lago di Tiberiade Gesù quindi era sopravvissuto e i documenti ci sono li ritroviamo documenti nelle biblioteche del indiane nelle biblioteche persiane e in un libro scritto nel cento centodieci centodiciotto il Buddha Zafi in cui si descrive come Gesù sia riuscito a fuggire a scampare alla crocefissione e si sia rifugiato nel Kashmir la Chiesa ha soltanto un documento che cerca di dichiarire la morte di Gesù ed è la Sindone sulla Sindone si è parlato si è scritto a lungo ma è sicuramente un falso non tanto perché i quattro laboratori che hanno analizzato hanno detto che è un telo che proviene dal 1200 e che probabilmente secondo certi studiosi era un mantello dei templari ma quello che taglia la testa al toro è il fatto che Gesù era alto 1,46 circa struttura minuta probabilmente aveva un gibbo una gobba probabilmente dovuto ad una scogliosi quindi era minutino mentre la struttura dell'uomo della Sindone è massiccia è 1,80 1,82 di corporatura robusta il fatto che Gesù abbia avuto la cura una corporatura minuta fa pensare che ovviamente non fosse l'uomo della Sindone Papa Moetiva lo chiamava l'uomo della Sindone non parlava di Gesù era un po' più prudente come facciamo sapere che Gesù aveva questa struttura minuta e fosse alto 1,46 ma prima di tutto Gesù era un palestinese della Cis Giordania l'altezza era quella di 1,60 circa però avendo avuto questo gibbo come descrive lo storico Celso lo rendeva un po' più basso tanto che nel Vangelo si legge che quelli che volevano vederlo si dovevano alzare in punta di piedi o andare su qualche cosa di sopra elevato perché scompariva tra la forma di Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.